un primo piatto calorico lo ammetto però quanto è buona la pasta con un sugo di salsiccia naturalmente con il sugo di pomodoro insieme la seconda ricetta invece un dolce leggermente meno calorico ma pur sempre buono che è una ciambella con le arance è stagione sentite io sono raffreddata se avessi mangiato qualche arancia in più buon giù ciao ilenia ciao un duette di pecorino romano pecorino romano sempre buono il pecorino romano anche mangiato così proprio a spicchietti che ricetta devi fare ilenia devo condire una pasta con un ragù di salsiccia ecco qua ecco qua il tuo pecorino sai grazie ciao ciao grazie carlo buongiorno buongiorno ilenia proprio le salsicce mi servono me ne dai tre tre salsicce eccole qua perfetto come le devi usare queste salsicce faccio un ragù per una pasta ecco ilenia le tue salsicce fantastico grazie ciao buona giornata eccoli qua gnocchetti sardi spesa fatta noi ci vediamo tra poco cari amiche cari amici golden chef Siamo tornate qui. Buongiorno. Buongiorno a tutti, naturalmente Ilenia Bazzacco, la nostra Masterchef. E Cristina Dori. Grazie, è troppo carina. Anche oggi vi vogliamo coinvolgere in questo marasma che è la cucina di due chiacchiere in cucina. A dire la verità, un marasma che la nostra Ilenia, a suon di bacchettate, però riesce a gestire con una certa capacità. Ci vuole polso. Esatto, come diceva la nonna. È arrivato il momento di dirvi che, insomma, se ci sono delle critiche, se avete piacere di dare dei suggerimenti. No, assolutamente nessuna critica. Se avete piacere di darci dei suggerimenti. Complimenti. Esatto, volete dire che siamo bellissime, non lo so. Giovani e magre. Tu sicuramente hai perso tutto ciò che una donna poteva perdere per strada. Sta di fatto che avete la possibilità di farlo attraverso mille modi. Una cosa che non abbiamo mai detto, per esempio, anche attraverso le e-mail. La nostra Ilenia ha la sua e-mail personale, quindi se dovete dirle, guarda Ilenia, proprio sei diventata insopportabile, l'indirizzo è? È Cristina Dori, chiocciola. No, sto scherzando. Allora, ricordatevi sempre, per, diciamo, darci il senso della vostra partecipazione, sono tutti i social e soprattutto la pagina Facebook. Facebook, che comunque hanno cominciato adesso a interagire con questo. Mi fa molto piacere, sono partita anche la quarta stagione, siamo partita in pompa magna. Anche oggi due ricette. Due ricette, naturalmente un primo piatto, faremo una pasta dei gnocchetti sardi con un ragù di salsiccia e poi una ciambella. Chissà se riescerà col buco. Non lo so, se la faccio io, diciamo che è abbastanza difficile, però parlando di e-mail, stavo scherzando, né quella di Ilenia, né la mia, ma dal sito www.7goldtelepadova.tv Bravissima! Avete la possibilità di accedere e scrivere la vostra e-mail. Cara Ilenia, la tua ricetta era fantastica. A tra poco, la prima di oggi sarà la ciambella alla raggia. Molto bene, allora, chiarito che se volete scriverci, noi siamo felicissime e leggeremo durante la trasmissione quelle che sono le vostre storie, quelle che volete raccontarci. Basta andare sul sito www.7goldtelepadova.tv, troverete appunto l'indirizzo internet. Siamo pronte, Ilenia, con la prima ricetta di oggi. Sì, se tu dai gli ingredienti, poi ci mettiamo subito all'opera. Sono qui a posta, sono qui a posta, avevamo già annunciato che avremmo parlato della ciambella all'arancia, un frutto meraviglioso del quale poi vi racconteremo un po' di storia. Per fare questo dolce eccezionale, prendete 3 uova a temperatura ambiente, 12 cucchiai di zucchero, 12 cucchiai di olio di semi di girasole, 12 cucchiai di latte intero a temperatura ambiente, 12 cucchiai di farina doppio zero, 2 arance e non 12, perché sarebbe veramente eccessivo, e una bustina di lievito per i dolci. Allora, spero che siate pronte, pronti ad assistere all'operazione ciambella all'arancia dalla Cina con Furore. Io ho pensato a noi due, che siamo leggermente un po' raffreddate, quindi l'arancia in questo periodo, anche mangiata attraverso un dolce, potrebbe... Può fare effetto. Esattamente, secondo me sì. Allora, quello che io chiedo a te, ci sei già occhialata e tutto, lavo l'arancia però prima, perché noi prima di andare a ricavare il succo, abbiamo bisogno di andarle appunto a grattare, quindi ricaviamo la scorza. Con questo grattino meraviglioso che nel caso, non so, aveste problemi, basta fare così. Però magari ne comprate uno a parte. Va bene, d'accordo. Saluta mia mamma, che è mia mamma Luciana, che è innamorata di te. Ciao, Luci. Ciao, Luci. Ciao. Allora, vado? Comincio? Vai, sì. Qui sopra il giacchiato. Sì, dove vuoi. Sì. È tutto bagnato però, eh? Allora, aspetta che... Come sono precisi e fastidiosa. Che siugo. Grazie, troppo carina. Vado? Sì. Di due arance, praticamente. Due arance, sarà molto profumata. Eh sì. Assolutamente, non devi. Non ragiongo il bianco. Esattamente, io intanto comincio con le tre uova. Sì. Intere, in questo caso. Sì. E vado a montarle, quindi a creare la mia struttura del dolce insieme allo zucchero. Sì? Con la zetta. Con la zetta di zucchero. Esatto. La zetta di zoccolo. Zoccolo. Allora, dodici cucchiai. Tu sai che io sono per le torte abbastanza rapide e semplici. Certo. Mi annoio un attimino a trovare argomenti, cioè ingredienti particolari. E ce lo dici spesso, infatti. Esatto. Cosa succede? Il 99% delle volte ho la batteria della bilancia senza batterie. Diverto un casino, è vero? Hai capito? Scusate l'inglese, ma... Cioè, dodici grammi, ci vorrebbe Dianine? Anche lui è un grande amico che speriamo di riospitare. Riospitare. Benesiani molto presto con le sue lezioni di pasticceria. E allora vado a cucchiai. Ah, vedi? Vado a cucchiai. Ecco. E quindi è molto più semplice poi ritrovarmi con la facilità, appunto. Come vedi, non c'è burro, ma utilizziamo l'olio. Se abbiamo un olio extravergine d'oliva, leggero come ce l'abbiamo noi, possiamo utilizzare anche l'olio extravergine d'oliva. Altrimenti no, perché è troppo invasivo il sapore. Troppo invasivo. Invece noi dobbiamo sfruttare l'essenza che ci viene data dalla scorza. Sembra che io... Sembra che... Scusa Andrea. Sembra che io sappia tutto. Ma non è così. No, diciamo che tu hai una buona memoria. Grazie. Insomma, abbastanza. Tipo Dori. Esatto, il pesce di nome Dori. L'hanno fatto su di te, questo... Sì, assolutamente. Immaginavo. Mi hanno voluto dedicare questa cosa. Che posso dirti? Cioè, ho dei momenti che capisco di avere una memoria un po' particolare. No, ma tranquilla, guarda che siamo in... Buona compagnia. Uh! Menomale. Allora, beh, si sa benissimo le proprietà dell'arancia. Sì? Ne basta solamente una al giorno per coprire tutto il fabbisogno di vitamina C che ci occorre. Che il nostro organismo chiede. Chiede. Esattamente. Però se io le voglio mangiare due, tre, quattro... Fin là, cioè, tu le puoi mangiare tre, quattro, però ne assimili sempre quello. Ma il mio corpo assimilerà la vitamina C di un'arancia. Di un'arancia. Perfetto. Male non fa comunque, perché è un frutto comunque buono, un frutto di stagione. Sì. Tu sai benissimo che esiste anche l'arancia estiva. Sì. Che addirittura è molto più dolce rispetto a quella leggermente asprigna dell'inverno. È vero. Ok? Quindi possiamo tranquillamente rifornirci. Benissimo. In questo caso, essendo arance bio, possiamo utilizzare anche la scorza. Sì. Basta, basta. Perfetto. E io il consiglio che do sempre quando andiamo a mangiare le arance è di tenere da parte, come facciamo noi, la scorza. Perché questa scorza, chiamata raspadura, la mettiamo all'interno di un vasetto coperta di zucchero e noi possiamo poi andarla a utilizzare per andare a insaporire i dolci o addirittura tè e tisane. Ah, meraviglioso. Quindi sia di limoni ma anche di arance, tratteniamo la scorza perché l'olio essenziale fa benissimo. Certo. Poi un'altra cosa. Ma che brava, oggi mi stai raccontando delle robe bellissime. Wikipedia. Un'altra cosa importante amiche da casa, io parlo per noi donne perché insomma l'uomo è da un po' che comincia a prendersi cura di sé. Sì. Prendete una mollica di pane, la imbevete, la imbibite con il succo di arancia e la tamponata sulle rughe. Però questo per le prime rughe. Ma io vorrei anche per dopo. Io la metterei perché è vitamina C, la nostra pelle ha bisogno di vitamina C diretta. È vero, però con la mollica di pane che sono tutti ingredienti che abbiamo a casa, il succo dell'arancia e si tampona, si picchietta. Esatto. Ecco, dove vivono le zampe di gallina. Queste vallette. Sono buonissime, le togliete, sono buonissime anche fatte in brodo. Le zampe di gallina sicuramente. Una volta lo facevi. Esatto. Invece c'è una bella storia greca a proposito delle arance legata a Giunone. Ok? Questa magliatrice. Praticamente lei le ha utilizzate, venivano utilizzate come se fossero un dono della, come si dice, il corredo. Lei portava in dote, scusate non mi veniva il termine, portava in dote le arance, simbolo di prosperità, di fertilità, un po' per la forma. Adesso io non lo posso dire perché questa è una trasmissione molto castigata, ma perché l'arancia in sé ricordava, insomma, avete capito. Una forma, una forma della donna, non c'è nulla di, sì, di così, scabroso. Sai come dicono, no? Come dicono? Io ve lo posso dire. No, lo dici dopo? Sì, te lo dico. Allora, io a uova e zucchero che ho montato ho aggiunto l'olio e il latte. Sì. La cosa importante in questa ricetta, ma un po' in tutte le ricette, è che le uova siano assolutamente a temperatura ambiente. Ok. Quindi non troppo fredde perché altrimenti non montano in maniera perfetta, ma in questo caso anche il latte. Ah, bene. Perché se è troppo freddo fa uno shock termico, si irrigidisce un attimino, ha freddo e il dolce non riesce. Il male che vada si può sempre riparare facendo, che ne so, respirazione bocca a bocca perché dopo uno shock termico, il legno mi insegna. Giusto? Benissimo. Fantastico. Grazie. Allora, tu mi vai a spremere il succo intanto di, fa le tutte e due. Bene. Allora, io ti rubo il tagliere. La raspatura. Sì. Raspadura. Raspadura? Uh-huh. Ah, non è dialettuale. Boh, non lo so. La scorsa grattata delle due arance. Sì. Ok. Allora, questa ricetta... Au! Mi sono fatta male. Attenzione. Allora, questa ricetta io l'ho fatta appunto con le arance, però se abbiamo dei limoni che non sono troppo aspri, è perfetta anche con i limoni. Ah, magari quelli belli con la buccia bella spessa, giusto? Tipo i limoni di sorrento. Eh, sì, che sono meravigliose. Allora, ho aggiunto... Assomigliamo un po' i cedri, in un certo senso. Sì. Che io adoro i cedri, anche all'interno, per esempio, dell'instal. Faremo qualcosa con il cedro. Sì, ma lo sai che non è proprio così scontato trovarli? Non è facile? No. Ah. Allora, ho aggiunto farina e ho aggiunto il lievito. Sì. Adesso impasto abbastanza velocemente anche la scorza. Ok. Senti, qui posso dire una cosa? Abbiamo tutto elettrico, non possiamo avere uno stremiagrume elettrico, ma io non lo so. Mi fai fare una fatica in sta cucina. Dai, dai, dai. Avanti. Va bene. Allora, qui dopo trasferisci un po' di succo. Sì. Io adesso mi tengo da parte un po' di farina. Perché? Perché io non vado ad aggiungere troppo succo d'arancia. Ma... Io ho indicato due arance. Dipende sempre dalla grandezza. Queste sono delle bestione. Queste sono belle, giunoniche. Sono giunoniche. Se vi passate il termine. E quindi adesso andiamo a dosare leggermente il succo. Sì. E eventualmente aggiungiamo un po' di farina. Quello che però darà il sapore e il profumo essenzialmente è la scorza che contiene l'olio essenziale. Ovvio, ovvio. Ok? Vado? Vai, vai, vai. Versa. Piano che non vada giù anche il... Che io lo adoro però. Anche che a me è un po' polposo piace, però in questo caso... In questo caso, insomma, è bene... Cerchiamo di essere più infiltrate possibile. Puri. Sì. Allora, quello che avanza, poi te ne bevi un goccio. Ok. Ok. A dire la verità non ho spremuto tutto molto bene perché ho perso la forza sul braccio destro. Molto strano perché sono abituata ad avvitare. Io ho comprato l'elettro. Mi sai che io sono molto MacGyver, no? MacGyver. Esatto. Allora, aggiungo un po' di farina. Ok. In questo caso, quindi la rendiamo leggermente più corposa. Sì, certo. Sì. Però se tu guardi, non è eccessivamente calorica come torta perché comunque in ogni caso abbiamo l'olio. Sì. Non abbiamo il burro, abbiamo poco zucchero. Certo. E quindi riusciamo tranquillamente appunto ad usarci. Quindi va bene anche per chi deve avere un certo origine alimentare. Sì, ma va benissimo per esempio anche per la colazione. Sì. Se proprio poi vogliamo anche esagerare, possiamo creare una glassa, magari se vogliamo servirla come dessert. Certo. Perché è un dolce leggero, non è troppo... Bevi, così ti... Grazie. Troppo carina. Ti tiri su. Ci incinano tutti voi. Sì. Ok. Sono buono. Sì, no, sono veramente belle queste arance. Buono. Allora. Ma vuoi un po', amore? No, cara. Grazie. Allora, adesso? Allora, io adesso vado. Piuttosto di andare a imburrare, metto un po' di olio. Sì. In questo caso un olio delicato è buono. E vado a creare appunto una certa impermeabilità. Con un olio si diceva che deve essere delicato e non troppo invasivo. E non troppo invasivo. Perfetto. Io ho dato l'idea adesso, in questo caso, con la ciambella. Se voi vi sentite più tranquilli, potete fare anche una torta semplice. Certo. Se proprio volete esagerare, possiamo fare anche dei muffin. Ah, bene. Perché sono dei dolcetti che vanno benissimo e si mantengono soprattutto morbidi. Per esempio, se vogliamo darli per merenda magari a scuola. Certamente. O per un nostro sfizio. Perché quel tipo di impasto è perfetto. Gli ingredienti sono perfetti anche per fare dei muffin. Benissimo. Magari, ecco, in questo caso hanno una cottura molto più rapida. Ok. Io adesso vado a mettere un po' di farina. Faccio questo lavoro. Quindi quello che è in eccesso poi viene. Viene tolto. Perché serve solamente perché lasci quel velo. Esatto. Che impedisca di attaccare. Perché altrimenti la farina è cruda. Certo. E non va bene. Ok. Ok. Vediamo di metterla soprattutto all'interno della ciambella. Là del buco. Esatto. Dove ci sono le... Vi aiutate in questo caso. Sì, esatto. Mettiamo l'eccesso. Ok. E andiamo a toglierla dalla planetaria. Visto che sono qui. Ed ecco che... Ecco, vi succederà questa cosa anche a voi se la impastate con la planetaria. Che la scorza di arancia tenderà attaccata alle fruste. Togliete perché quella è la parte buona. Certo, scusa. E quello è buono. Chissà se i nostri amici da casa hanno delle ricette con le arance. Le arance candite. Secondo me sì. Ma anche, non so, per esempio, usare l'arancia mettendoci, che ne so, dei chiodi di garofano, dei bastoncini di cannella e serve per profumare l'ambiente, per esempio. A me succedeva quando andavo... Metti sopra il termosicolo in inverno, vero? Quando andavo da mia nonna la metteva sopra la stufa economica. Esatto. Oh, che meraviglia. Non so se riesco... Eccolo là. Grazie, Andrea. Guarda che meraviglia. Un po' rugosa, la state vedendo, proprio perché ci sono le... La scorza. Esatto, come ti hai detto prima? La raspadura. La raspadura. Benissimo. Adesso puliamo bene. Eccoci qua. Non battiamo, neanche in questo caso, mi raccomando. Ok. Deve restare leggera, come l'hai infilata lì. Allora, attenzione perché questo è il momento invece di passare al nostro salotto, dove troviamo il dottor Carlo Giolo. Ricordate, è vero, la dieta dei mestieri. Oggi ci parlerà della castagna. 180 gradi per 40 minuti. Ed eccolo qua, il nostro dottor Carlo Giolo. Carlo, ben arrivato nel nostro salotto, è un tiacchere in cucina. Ciao, buongiorno. Allora, ti vediamo sempre in forma, te, Leonora. Questa dieta dei mestieri che per quanto riguarda voi, insomma, che siete stati un po' gli sperimentatori, mi sembra promettere molto bene, no? Ma suggerimenti, uno dopo l'altro. Sì, sì, sta andando bene. Le castagne. Parliamo di questo frutto autunnale meraviglioso. È un frutto la castagna? È un frutto secco, sì. Frutto secca, viene definita. È stato l'unico alimento di sostentamento anche durante le due guerre, per i nostri nonni magari, che si alimentavano soprattutto di castagne montanari, contadini montanari. Perché le castagne comunque crescono, ritroviamo, dai 800 metri in su. E quindi collina, collina quasi montagna. E se ne parlava già nel Medioevo, la castagna, si pensava per la sua forma, che comunque richiamava quella di un po' dei genitali, dell'uomo, si pensava avesse comunque delle proprietà afrodisiache. Ah, addirittura. Sì, addirittura. Ma cosa cosa non si faceva? Per associare sempre, per arrivare sempre a quel punto. Tanto che il teologo Isidoro di Civiglia, un teologo spagnolo del VI secolo d.C., associava proprio al termine castagna, castrare, la parola castrare. Ecco. Secondo lui, appunto, l'atto del togliere, dell'estrarre i due frutti gemelli dal riccio, era come quello della castrazione. Poi ho detto così, ma un po' la castrazione, però mi rendo appunto anche le leggende, sono quelle poi. Forse quando si ha poco vita sociale, il pensiero cade in strane. D'altro mondo in quell'epoca magari la televisione non esisteva. Non esisteva, e quindi però secondo lui era questo. Comunque era un frutto frodisiaco. Al di là di questo, invece, la castagna è molto importante. Noi la consigliamo nel nostro libro, quando andiamo nelle aziende, la consigliamo per tutti quei lavori sedentari, o comunque considerati leggeri, ma che stazionano o stanno per molte ore sedute, o che stazionano per diverse ore in piedi, e quindi hanno un problema le donne delle vene varicose. La castagna è perfetta per prevenire le vene varicose. Quindi, perché è ricca di potassio, ha circa 500 mg di carboidrati, e quindi comunque è saziante, e noi consigliamo addirittura di riprendere a fare il castagnaccio. È un dolce molto buono, naturale. Ah sì, castagnaccio no, però la fulla è la farina in castagna. No, la castagnaccio è proprio la torta, un dolce, un dolce molto buono, poi tra l'altro. Che è anche molto buono, è strategico perché è saziante, se lo si fa senza mettere magari dello zucchero, ma accompagnandolo con farina di castagna, l'impasto con l'acqua, e poi noi ci mettiamo le mele, pezzettone di mela, pinoli o anche le noci, abbiamo provato, e l'uva passa. Potrebbe essere una buona merenda, magari per bambini, metà mattina, metà pomeriggio. L'area per la commessa, la banconiera, o che sta tante ore fermi. È facile poi da portare, c'è la porzione, te la porti dietro. Si porta una porzione, tranquillamente, così ti toglie la voglia del dolce, perché magari al mattino, spezzare verso le nove e mezza, dieci, metà mattinata, con qualcosa, anche un po' di dolce, molti di noi può avere in effetti questa regidaria, insomma. Anche magari prima di andare in palestra potrebbe essere una cosa. O prima di andare, sì, comunque da molto carboidrati. Grazie davvero, ricordatevi, naturalmente la dieta dei mestieri, ringrazio Carlo Giolo, il dottor Carlo Giolo. Mi raccomando, i fornelli sono caldissimi, io torno a cucinare con Ilenia Bazzacco. A tra poco. Ah, è già ora, eccoci qua. Perché le ciambelle escono sempre con il buco. Sì, e le crepe. Spieghiamo il ciambellone come deve essere. Allora, la ciambella, perché sia una buona riuscita, deve avere il buco e queste crepe meravigliose. Ecco, che state vedendo proprio in questo momento, grazie Andrea. È anche bella alta. Eh, certo. Nonostante ci siano solo tre uova. Poi c'è questo trucco, diciamo, per, diciamo, come dire, spolverare, per fare la classica nevicata di zucchero a velo, con l'altatina. Sì, nel senso che c'è la gratta sotto, quelli bravi, come dice Enrico, perché noi abbiamo un piatto meraviglioso che non vogliamo poi sportare. Assolutamente no. E quindi, mani, perché... Occhio. Se si rompe la mangiamo lo stesso, eh? Non si è rotta, peccato. Ilenia mi dice delle brutte cose adesso. No, sai. Giustamente. Può succedere. Sì, sì, sì. Allora, senti, qui non c'è altro da aggiungere, se non che questa è una torta che va bene in tutte le stagioni, penso che ci sono le arance invernali, ma anche i limoni potete fare. Esatto, noi intanto andiamo a vedere che cosa succederà con i suggerimenti di Vito, dell'Ais Veneto, per l'abbinamento. No? Che ne dici? Vedo allora bollicine, cosa vuoi? Sì, bollicine, secondo me. Ok. Ilenia, buongiorno. Buongiorno, oggi ti accolgo con un dolce profumatissimo all'arancia. E io rispondo con un prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore, tipologia dry, che ha un residuo zuccherino di 24 grammi litro di zucca. Quindi mi serve per andare, diciamo così, in concordanza con il dolce, ma dall'altra parte mi consente con la sua acidità e sapidità di poter ripulire bene la bocca da tutto quello che è quella sensazione di pastosità in bocca. Guarda che spuma rigogliosa, importante. Col Vettorazia è un'azienda importante. Siamo proprio nella zona del Cartizze, ma chiaramente qui il terreno è particolare, si tratta di una marna, cioè di una roccia sedimentaria che si è venuta a formare per innalzamento della crosta terrestre e quello era un fondale marino da un certo punto di vista. Quindi abbiamo 65% di carbonato di calcio, 35% di argilla e qui i vini riescono a raggiungere una mineralità un po' più spiccata rispetto ad altre zone della denominazione prosecco di OCG. Abbiamo visto la spuma, il colore, il perlage che è bellissimo. Perlage è affascinante. È affascinante. Ci mettiamo il naso e allora queste note di mela golden veramente molto evidenti ci invitano immediatamente al primo assaggio. Sì, si sente il residuo zuccherino, però dall'altra parte abbiamo una bellissima acidità che ripulisce la bocca e invida il riassaggio. E poi questa sapidità che accompagna e allunga la scia di persistenza di questo prosecco di Conegliano Valdobbiade Superiore 2016, millesimato, perché ottenuto con uve tutte della stessa annata, cioè annata 2016. Questo vuol dire millesimato. Ascoltami, insegniamo ai nostri amici da casa come si tiene il calice. Beh, si prende per lo stelo e non si prende mai per la coppa perché ci comporterebbe un riscaldamento del vino da una parte e dall'altra parte avvicinando troppo la mano al nostro naso potremo percepire degli odori che sono sulla mano e non nel vino. Quindi il modo migliore è sempre per lo stelo. Capito cosa imparate con noi? Seguiteci sempre, tra poco. Cin, cin. Voi non potete sapere il delirio in questa cucina mentre va la pubblicità, mentre arriva Carlo Giolo, mentre insomma arriva di tutto. Diciamo che è un momento di pausa un po' goliardico. Sì, abbiamo a che fare con dei ragazzini un pochino monelli, ecco, diciamo così. Attenzione cari Golden Chef, siamo pronte, Ilenia e io, a passarvi quella che sarà la seconda ricetta di oggi, ovvero... I gnocchetti, in questo caso con un ragù di salsiccia. Buoni, buoni. Pasta con ragù di salsiccia, appunto come diceva la nostra Ilenia, si tratta di gnocchetti, il tipo di pasta, 320 grammi, quelli sardi praticamente, 300 grammi di salsiccia, olio extravergine di oliva, uno scalogno, 50 ml di vino bianco secco, 200 grammi di passata di pomodoro, sale e pepe e pecorino. Ebbè, se è un formato di pasta sardo non può che essere il pecorino, il formaggio. Sì, ma anche perché siccome è una pasta abbastanza poco saporita, ho pensato di dare un po' di sapore. Ok, hai capito? Quella botta di... Quella botta di... Sì. Ok, è benissimo. No, però il pecorino ci sta, però nulla ci vieta di utilizzare anche il classico formaggio parmigiano, grana padano. Ok. Allora, quello che io chiedo a te, vuoi... Ogni volta parte questa roba e mi dite un'ansia, voi non sapete. Quello che io chiedo a te, ogni volta mi dite... Sì? Allora, ci sono due cose che tu potresti fare. Sì. O anche tutte e due. O grattare il pecorino, oppure togliere il budello alla salsiccia e sgranarla leggermente. Io posso fare altre due. Intanto per mettere... Sei supersonica. Devo forcare... Prego. Vai. Devo forcare gli occhiali. Allora, io comincio adesso... Tutte e tre. Beh, direi. Sì. Allora, fai un taglio così e poi togli il budello. Esatto, almeno questo è quanto pensavo di fare, però è bello che tu me l'abbia... Sì, io suggerisco. Assolutamente ribadito. Sì, assolutamente. Suggerisco. Allora, io adesso vado a insaporire un po' la passata di pomodoro. Ok. Ho utilizzato lo scalogno perché è leggermente meno invasivo della cipolla. Sì. Però se avete la cipolla va bene. Ma lo scalogno è buono però. Sì. Allora, sempre un filo d'olio. Sì. Anche in questo caso. Questa appunto sarà una parte, poi andremo a mettere insieme i due sughi perché... Perché, scusate... È la voglia di mangiare quella roba. No, no. Perché appunto io devo togliere una parte di grasso alla salsiccia comunque. Andrò a deglassarla. La salsiccia si deglassa. Sì, si va a deglassare quindi a togliere, a sgrassare, oltre con la cottura ma anche con il vino bianco. Perfetto. Ribadisco in eterno, sempre e comunque, il vino deve essere buono. Assolutamente sì. Ma come dirti di no? Fatevi consigliare per esempio dai nostri amici Ais. Esatto. Perché anche in questo caso... Vinezia. Vinezia. Vinezia di Ais Veneto. Così sapete esattamente quali vini utilizzare in cucina. Adesso noi non vogliamo demonizzare chiaramente gli altri vini senza fare nomi che l'incartoccio. Però... Eh? Esistono? Sì. Però, capite. Allora, io qui ci sono. Poi ci sei. Allora, tu adesso vai a grattare il pecorino. Sì. Io per prima cosa... Ho già salato l'acqua. Ok. E vado a buttare la pasta. Quanto ne faccio, ragazzi? 6 chili? Ragazzi, quanto fame avete? Ho 6 chili. Perché non si butta niente qui. Però tu che sei una chef... Toglio un po' di buccia. Non è durissimo. No. Togli solo un po' di buccia. Sì. E il resto poi, appunto, poi... E si grattugia? Togli solo un po' di buccia. E non va bene così. Perché io pensavo così e grattugia appunto così vai meglio. Ma va bene anche così. Ormai io ho fatto... Farò un di spigolo. Va bene se faccio un di spigolo? Eh, la grattugi però dalla parte più grossa. Cioè questa. Sì. Benissimo. Passata di pomodoro. Sì. Anzi, io la faccio tutta tanto qui. Le bocche sono buone. Ok. A volte quando... Diciamolo ai nostri amici da casa. Quando ritardiamo un po' anche perché poi finita la registrazione, insomma, si mangia un boccone tutti insieme. Sì, esatto. E' successo anche di mangiare la pasta alle 4 di pomeriggio. Beh, insomma, dai. Va bene. Per quale motivo dire di no? Il problema, sai qual era? È che non avevamo ancora fatto lo shooting fotografico. Lo shooting. E ci siamo trovati praticamente col piatto di mangiato. Esatto. Ma ci siamo diti, dove è la pasta per la foto? Cosa dici? Ti basta? Ma fa ne un altro pochino. L'altro po'? Sì. Ripeto sempre, lo paghi tu. Come posso dirti quanto hai ragione, amica? Allora, sale. Ok. Pepe. Vado ad abbassare un po', sì. Sì, altrimenti mi avresti detto tutto. Basta, basta. Benissimo. Allora, adesso facciamo andare piano piano il sugo. Lo facciamo pippare, come si fa con il baccalà. Dovrei avere anche il coperchio. E lì ci voleva di sottofondo. I'm Papa is a sailor, man. I'm Papa is a sailor, man. Ci voleva questo. Allora, quando vai in cerca del coperchio, giusto, non lo becchi mai. Viva! E adesso vado, penso, alla mia salsiccia. Sì. Guarda come te l'ho tagliata. Meraviglioso. Fantastico. Allora, ho già portato in temperatura la parte di padella secco. Ok. Quindi non sono andata ad aggiungere olio né niente. Tu mi vai a mescolare la pasta. Aspetta che la riporto un po'. Davvero? Mi fai mescolare qualcosa? Sì. Non ci crede nessuno. Un cucchiaio, va bene? Qualsiasi? Sì, sì, sì. Perfetto. Lo sai il segreto per non... Mi sgrida? No. Sì. Lo sai il segreto per non far uscire tutta l'acqua che normalmente succede, che borbotta? Io metto il mestolo. Di legno. Di legno, esatto. Lo metti così e là... E vedi che qualcosa so anch'io. Magicamente si ferma. Posso mescolare con questo allora? Sì, sì. Ma è indifferente legno e silicone? Io uso sempre il legno perché è l'unica parte appunto di attrezzatura che non si va a colare nel momento in cui rimane a contatto con la pentola. Ok, benissimo. Mentre il silicone con le alte temperature, insomma... Allora, fatta questa prima... Non mi passa. Scusate, perché devo ancora capire quattro tagli devo usare. Questo di legno. Questo di legno? No, voglio usare perché abbiamo quelli nuovi della tognana. Sì, vai vai. Voglio farli vedere. Eccolo! Questo qua, questo cercavo io. Prima perché non si cola nulla. No. Prima roba. Eccolo! Col manico dentro no però. Non si può questo per l'operazione. Però... Però... E vedi? Con l'impugnatura. Ma è anche leggermente curvo per non trattenere il calore. Perfetto. Allora, a questo punto... Di cucchiai, finalmente l'ho trovato quello giù. Sì, aggiungo un filo d'olio. Sì. E anche qua continuiamo a ripetere che l'olio deve essere buono. Deve essere buono. Perché voi potete essere dei cuochi meravigliosi, bravissimi, però i prodotti. L'acqua deve essere in ebullizione per la pasta. In questo caso non lo è. La cottura... Infatti ho alzato. Grazie. No, 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 mai coperto. Preferisci di no? No. Bene. Perché altrimenti bolle, cioè... Lo porto via solo coperto. Sì, portalo via. In questo caso la pasta richiederà dagli 8 ai 10 minuti di cottura. Sì. Se sono 10 minuti come indicati appunto dalla casa produttrice, scogliamola a 9 perché poi dobbiamo andare a insaporire all'interno appunto della salsiccia. Ho capito. Ok, e dopo aggiungeremo anche la parte appunto di pomodoro. Va bene. Adesso, fatta questa operazione, riportiamo leggermente in temperatura, perché altrimenti se noi non partiamo leggermente e con fuoco basso, forza bassa, la salsiccia si chiude e quindi non riusciamo più a sgranarla. Certo. Portiamo a una temperatura elevata, dopodiché andiamo a deglassare con la parte alcolica di vino. Benissimo. Deglassare, si può deglassare per esempio anche nel momento in cui facciamo un arrosto, si crea quella patina sotto che sembra bruciato ma non lo è. La parte alcolica fa crescere la parte umida all'interno della pentola e quindi si stacca la parte appunto aromatica, leggermente tostata, croccantina appunto del fondo di cottura. Bene, benissimo. Ed è una tecnica base della cucina che si utilizza quando andiamo appunto a creare dei fondi, fondo bruno, fondo chiaro, che servono per andare a insaporire poi la parte di arrosto o di salsa. No, è proprio la parte, il fondo praticamente di cottura e quando noi andiamo a rosolare prima in padella e poi in forno, gli scarti, le ossa appunto della bestia, chiamiamola. E se magari non so, non riusciamo a essere molto chiari, non dovete far altro che entrare nel sito settegoldetelepadva.tv e cercate info, insomma, la nostra email e dite Ilenia nella puntata in cui hai parlato della salsiccia eccetera, non ho ben capito come devo fare? Ilenia durante la trasmissione, leggeremo ovviamente la vostra email, sarà più che in dieta di darvi tutte le delucidazioni. Siamo qua apposta, ci sverchiamo anche se ci scrivete. Allora, io ho scelto un formato di pasta che sono i gnocchetti sardi, però questo sugo si sposa benissimo anche proprio con gnocchi di patate. Ah, beh certo, dai, certo. Se non vogliamo pura salsiccia possiamo addirittura mescolarlo con del ragù, per esempio, se a voi piace, di coniglio, di anatra, quindi sughi un po' corposi. Certo. E quindi in questo caso, in questo caso ci starebbe... C'è qualcuno in sala che chiede, il bambino Enrico, ti chiede, e con la pasta all'uovo? Ma certamente, anche con una tagliatella e io dico di più anche con i bigoli. Beh, come fa... ecco, perché abbiamo scoperto prima che uno dei nostri canali... Dopo quattro anni, comunque, non vorrei dirlo. Leo, dopo quattro anni, ha detto a Ilenia, ma lo sai che io a casa ho... Il torchio. Il torchio, detto in Veneto, il bigolaro o bigolara, che praticamente permette appunto di fare i bigoli fatti in casa. E Ilenia ha detto, adesso me lo dici, dopo quattro anni, ma magari Leo generosamente ce lo porta un giorno, così vediamo Ilenia, che ci fa una lezione di pasta fatta in casa. Magari con un sugo di baccalà, cosa dici? Sì, stiamo svelendo tutti quanti. Come si fa, dai? Io il prossimo programma farò scalata su roccia, sappiatelo. Va bene. Allora, facciamo, a parte gli scherzi, evaporare tutta la parte alcolica, quindi il fuoco deve essere alto. Sì. Un'altra variante di questo sugo potrebbe essere, anziché con la salsiccia, potrebbe essere con la soppressa. Davvero? A cubettino, leggermente fresca e poi sgranata. E diventa sgranata uguale. E diventa sgranata, ecco, in quel caso io sceglierei magari un formaggio meno invasivo, perché la soppressa è molto sgranata. Che diventa troppo piccante, troppo saporito, giusto? Però possiamo magari condirla, al posto che con il sugo di pomodoro, con dei carciofi, spicchi di carciofi tagliati molto sottili, leggermente saltati in panella. Eh ma adesso, ci stai passando tutte queste varianti, dobbiamo prendere nota di tutte queste robe qua. Ma io quando faccio i corsi di cucina, do sempre le varianti, perché dico sempre, magari a casa non hai tutta questa cosa. È vero? E devi capire che aprendo il frigorifero, lo continuo a ripetere all'infinito. E ci capito, è esattamente quello che ha appena detto Ilelia. Ma se tu apri il frigo, riesci a fare almeno quattro ricette. Diciamo che se io apro il frigo, ho l'eco, però... Ma sei una di quelli che ha l'eco? No, sì, non riesco. Tra me e Riccardo non è che riusciamo a gestire molto bene con gli orari, diventa un pochino complicato. Casa mia invece è impossibile a volte riporre qualcosa in frigo. Addirittura a casa tua devi spingere quei piedi per chiudere il frigo? Davvero? Allora io sono sempre stata abituata a casa, prima di sposarmi, mia mamma non aveva nulla in frigo. Lei comprava in base a quello che serviva. Esatto. E mi succedeva che magari mi veniva voglia alle sette e mezza di sera di fare qualcosa da mangiare, non c'era mai nulla. Beh, insomma capisco, perché è il tipo di casa a cui sono abituata io. Adesso invece, mentre noi continuiamo con la ricetta, vi offriamo questo momento di pubblicità e torniamo a Due Chiacchiere in Cucina. Benissimo, noi siamo tornati a Due Chiacchiere in Cucina. Qui, insomma, nel luogo che conoscete molto bene, mentre andava la pubblicità, intanto le nostre orecchiette sono arrivate a perfetta cottura. Gnocchetti. Ma vanno bene anche le orecchiette. Potrebbero andare bene. Ah, quindi è stato praticamente un lapsus freudiano, perché tu prima giustamente proponevi anche altri formati di pasta. Sì, anche i maritati, possiamo mettere le fettuccine. I maritati non ho presente, però... Sono uno sposalizio tra maltagliati, orecchiette, cioè è proprio un misto. Ok. Allora io adesso faccio come si fa con la carbonara. Sì. Quindi vado a insaporire la pasta con il sugo di salsiccia. Ok. E poi vado ad aggiungere il mio pomodoro. Buonissima anche senza pomodoro, perché ci sono purtroppo... In bianco, diciamo. Sì, ci sono purtroppo parecchie persone che hanno problemi con pomodoro di solanaco, le solanacee. Esatto, in tolleranza. Però, insomma, va bene. Beh, guarda. Ragù bianco. Eh, ha il suo perché, eh. Sì, è assolutamente. È un ragù bianco, in questo caso, che va benissimo. Mi sa che qualcuno farà merenda oggi. No. Qui dentro nessuno mangia quello che prepari tu. Allora, adesso vado ad aggiungere il mio sugo di pomodoro. Anche qua aggiungiamo quello che più ci piace di quantità. Ok, potrebbe essere più carico, più delicato. Esattamente. Ok, e invece quando mettiamo il pecorino? Lo mettiamo dopo aver mantecato bene. Ok. Allora, si può decidere di metterlo all'ultimo momento sopra. Ok. Sì. Oppure... Direttamente in padella, vuol dire? Oppure direttamente in padella. Oppure sul piatto? Esatto. Questo, essendo comunque semi morbido, un semi stagionato, possiamo permetterci anche appunto di metterlo in cottura. Però, guarda che spettacolo. Cosa facciamo? Facciamo già un passaggino? Ma io lo farei un passaggino. Cosa dici? Sì. Ok. Allora, io sto per dare una riordinatina, visto che sono un sous chef. Sì. Questo è il mio compito. Perfetto. Vedi che serviva in quantità. Sì, sì, hai ragione. Questo lo usiamo dopo per finire il peatto. Per bellezza questo che è rimasto. Allora, anche in questo caso l'acqua di cottura per noi è utile nel caso in cui dovesse asciugarsi troppo. È lucido perfino, meraviglia. Una crema? È una crema. Mamma mia. Guarda. Sì, sì. Come siamo con i tempi? Ci siamo? Ci siamo in ritardo. Tanto per cambiare, vogliamo scioccare i Golden Chef a essere troppo puntuali e troppo vicino a lì. No, no, va benissimo. Perfetto. Allora, noi stiamo praticamente scofanando, passami questo termine. Ci sta. Grazie. E tutti ci chiediamo, ma gli amici di Ice Veneto, che vino abbineranno a questa roba che non ho aggettivi? Qua ci vuole un vino che regga la struttura gusto-olfattiva persistente. Mamma mia, cosa sei diventata tu, eh? Eh, purtroppo, sai. Rieccomi, Ilenia. Rieccoci con questa suntuosa pasta, perché è una pasta importante. Con il ragù di salsiccia. Con il ragù di salsiccia, sì. Allora, ho pensato al vino particolare della Valpolicella. È un Valpolicella ripasso. Cosa vuol dire ripasso? Vuol dire che il vino base, Valpolicella, che viene ottenuto chiaramente con la prima fermentazione in acciaio inox, delle uve, Corvina, Corvinone, Rondinella in questo caso, e altro vino della Valpolicella è l'Amarone. Cosa si fa? Quando l'Amarone ha finito la sua fermentazione, quindi si sottraggono le vinacce dal mosto, sulle vinacce dell'Amarone viene messo il Valpolicella base. E chiaramente, essendo ancora ricche di zuccare, il vino rifermenta. E quindi fa una seconda fermentazione, dando più corpo, più struttura e anche, diciamo così, più ricchezza di tannina, quello che è il Valpolicella base. Non si tiene tantissimi giorni, 12-13 giorni al massimo, a rifermentare. Dopodiché si fa maturare in botte grandi da 65 tolli di Slavonia, per dare sontuosità, completezza al bouquet e una certa morbidezza a un tannino, che a un certo punto è ancora, diciamo così, ben presente. Allora il vino che otteniamo è un vino che ha delle caratteristiche similari all'Amarone, però chiaramente una struttura inferiore rispetto a noi. E' molto, molto piacevole. Proviamo a metterci il naso. Ecco, sentiamo i profumi tipici del vitigno, quindi questi piccoli frutti rossi in confettura. Proviamo un pochino ad assorseggiarlo. Senti la morbidezza, non hai quel tannino aggressivo, perché questo passaggio in legno, in un legno grande, ha fatto sì che il vino ha completato il suo percorso evolutivo. Anche questo è dell'azienda Tommasi, l'azienda interessante proviene dalla zona classica della Valpolicella, l'annata è la 2014. Abbiamo chiaramente due vigneti particolari che regalano delle uve particolarmente sontuose e uno dei 2000 passavini reperibili sulla nostra guida online Venezia, accessibile dal nostro sito www.aisveneto.it E allora noi ci vediamo tra poco. E come al solito, questo è il momento della puntata nel quale ci chiediamo, sarà più buona la prima ricetta che abbiamo fatto o la seconda ricetta? Sono buone tutte e due, ma stiamo scherzando? Si parte da questa, che è il primo piatto, barra secondo perché è bello tosto. Terminiamo col dolcetto e il caffè, anzi con il vino che Vinto ci ha lasciato qui. Esattamente, naturalmente vi ricordiamo che due chiacchiere in cucina vi aspetta per la prossima puntata, ma prima vi diamo un po' di indirizzi, un po' di info. Abbiamo molto insistito e con il terreno a farlo perché vorremmo davvero che il fatto che mandaste delle email in cui, non so, chiedete informazioni, ci date suggerimenti, insomma, possa diventare una consuetudine. Basta andare su www.setgoldtelepadova.tv e troverete appunto l'indirizzo email e lì potete scrivere, noi durante la puntata poi leggeremo le vostre lettere, vi mandiamo anche i saluti. Anche tramite Messenger, presenti sulla nostra pagina ufficiale di Vecacchiere in cucina, oppure ci scrivete tramite il messaggio addirittura in Instagram o su Twitter, cioè avete tutte le possibilità del mondo per comunicare con noi. Comprete naturalmente il canale YouTube, se volete avere poi in tempo reale le notifiche delle puntate nuove, basta cliccare, iscriviti, non vi costa assolutamente nulla. No, ci abbiamo portato a casa la puntata anche oggi. Eh sì, mi sembra che di sì, questa missione ci è riuscita anche stavolta. Ciao a tutti, vi vogliamo bene, ciao!